L'Orafo Gioielli, grandi marche e creazioni proprie. Compriamo oro, argento e pietre preziose. L'Orafo Gioielli, il tuo orafo di fiducia. Sicurezza urbana, viabilità e pubblica illuminazione. Sono le esigenze dei residenti di Via Cupa Mastro Gennaro ad Angri. Una necessità presente da anni e che non trova ancora una soluzione. La strada è stata allargata ma non ancora ultimata. Piano pedonale dei marciapiedi ancora allo stato grezzo, sotto servizi previsti ma mai ultimati. E l'ennesimo appello che i cittadini lanciano per non essere ancora dimenticati. Siamo qui a Via Cupa Mastro Gennaro per il lusso ai problemi legati a questa strada. I lavori sono iniziati nel 2009, a cavallo tra il 2009 e il 2010. Si sono bloccati e non sono più andati avanti. Questo è il primo punto in cui si sono fermati i lavori ed è il punto più pericoloso della zona. Infatti sia le auto che salgono, sia quelle che scendono, non hanno visibilità. Questo crea un grosso danno per quanto riguarda la sicurezza stradale. Adesso se saliamo, mano a mano che saliamo, questo pezzo si estende per circa 20 metri. E qui inizia la strada vera e propria, con la sede stradale larga 6,5 metri. E qui è diventato un deposito di vari materiali, di cumuli di rifiuti speciali di scarti edili, materiali di vario genere. A volte è stato ritrovato anche dei materiali di amianto. E qui comunque adesso ci troviamo a ridosso di un'abitazione. Qui si vince un altro problema, il problema della pubblica illuminazione. C'è già la predisposizione, fatta all'epoca, circa dieci anni fa, con il possetto, la predisposizione del palo e all'interno c'è anche la messa a terra. È un problema molto importante per noi. In pratica, con la mancanza della pubblica illuminazione, si scatenano, come è ben possibile in manecinare, numerosi furti. È un problema scendere a piedi la sera, anche di tirarsi la sera. Comunque, diciamo, non rende ben vivibile la strada. Esigenze sentite che saranno portate ancora una volta all'attenzione degli amministratori. Quello che fa riflettere è anche il nuovo progetto di pubblica illuminazione e l'affidamento che dovrebbe essere fatto ad una società. Dai grafici, la zona di via Cupa Mastro Gennaro sembrerebbe essere stata tagliata da ogni tipo di intervento. Aspettiamo una risposta da chi di dovere, dalle istituzioni sia comunali sia sovracomunali e nel più breve tempo possibile.